Salve a tutti ragazzi e bentornati su JustLegendary Io sono Ale e oggi siamo qui con il nostro primo unboxing Cosa andremo a scartare ragazzi? Bene, vi sarete accorti che in questi primi video La qualità dell'audio era un po' bassa Me ne sono accorto anche io E dopo diversi commenti che mi avete scritto Consigliandomi di migliorare un pochino l'audio Bene ragazzi, ho deciso di darvi ascolto Ho deciso di comprarmi questo nuovo microfono Quindi, bando alle ciance E andiamo subito a scartare questo nuovo pacco Arrivato da pochissimi minuti da Amazon Abbiamo le forbici, iniziamo a scartare Come si apre? Allora qui Aiuto Ok, abbiamo tolto anche questo Le forbici non si capiranno più, spero Ok Ok, no, servono ancora le forbici No, ho bucato qualcosa Ditemi che non ho davvero bucato qualcosa Ok, non ho bucato niente Per fortuna Andiamo ad aprire il pacco Ok, così si vede Ok C'è questa carta Oh mio Dio ragazzi La carta proprio che desideravo Io andrei subito Vabbè Stavo scherzando ovviamente Ok, altra carta Oh mio Dio ragazzi Diventeremo ricchi con tutta questa carta E attenzione Eccolo qua ragazzi Allora, eccolo qua Guardate questa ragazza tutta contenta Con il suo nuovo microfono Allora, bene ragazzi Ho deciso di prendere appunto questa versione nera Vediamo bene la scatola Che bello ragazzi Allora, ho scelto la versione nera Anche se costicchiamo un po' di più Nel caso in cui anche voi voleste acquistare il microfono Andatevelo a cercare su Amazon Perché nessuno mi paga per mettere il link No, dai ragazzi Scherzo, ovviamente vi metterò il link in descrizione Se volete acquistarlo anche voi Farò anche dei test audio Allora, ecco Aspetta, vi faccio vedere Oddio queste scatola Ah no, l'abbiamo Notare che ho rotto la scatola subito Ho rotto la scatola subito Ah, perché c'è la link Ho rotto subito la scatola Allora ragazzi Vediamo di aprire come si deve questa scatola Ok, benissimo Altre linguettine, no? Spero di non averlo rotto nulla, seriamente Siamo fuori la nostra palla Oh mio Dio È davvero grande e pesante Guardate che carino Ok Scartiamo Delicatamente Sempre Bene Questa sarà la palla Con la quale registreremo Sarà il microfono Vero e proprio Mettiamolo da una parte Facciamo rompere i muri Che non riesco Scusate No Si è incastrato ragazzi Guardate Si è incastrato No, ok C'era un'altra linguetta Vediamo Questo Sarà il cavo Con cui collegheremo Il microfono Al nostro pc Ecco Leviamolo Questa sarà La usb Per il computer E questo sarà il cavo Da infilare Nel nostro microfono Nella nostra palla Non cogliete doppi sensi Vi prego No Ok Ma non è finita qui Perché c'è anche Il treppiede ragazzi Per fortuna Niente da montare Per fortuna Come potete vedere Abbiamo distrutto La scatola Missione compiuta Ragazzi Abbiamo distrutto La scatola Qui possiamo regolare Le gambine Spero Perché così Non si viene Per nulla Non si vede Aspetta Abbasso un po' La Ok Si vede benissimo Adesso Ecco qui Regoliamo Ho regolato male A quanto pare Ecco il nostro treppiede Ok Non si vede di nuovo Scartiamo anche La usb Aspettate un attimo Che sono incapace Con gli unboxing Eccolo qua Oddio Oh mio dio Oddio Non so se si vede bene Ma stiamo installando La periferica usb Del nuovo microfono Ok Volevo farvelo vedere A scopo informativo Non so se esti Non si vede bene Non so se for Non si vede bene Non se vede bene Non so se vor Non so se vede bene Grazie a tutti.